Sta per partire la categoria G3, è stato dato il via alla corsa, sono partiti, vediamo un atleta ha avuto delle difficoltà ad agganciare i pedali, il gruppo è compatto, hanno concluso il primo giro in questo momento, anche il ragazzo giro, il gruppo è sempre compatto, tranne qualche ragazzo che è rimasto tardato, il gruppo per il terzo passaggio sotto il traguardo, siamo a metà gara quindi, sembra che abbiano rallentato rispetto al giro precedente, stanno passando sotto il traguardo adesso per completare anche il quarto giro, stanno per arrivare i corridori, della testa della corsa, la campana segna all'inizio dell'ultimo giro, vediamo una testa sempre compatta, c'è qualche atleta che è rimasto un po' distaccato, forse per terminare la gara, vediamo c'è uno sprint, ecco la gara è conclusa, vediamo intanto che continuano ad arrivare.